Il mio lavoro comincia tantissimi anni fa, diciamo, si è detto una cinquantina d'anni, ma più o meno ci siamo. Non c'è ovviamente una data precisa. La prima mostra importante è per quello che poteva essere una mostra di esordio proprio agli inizi degli anni Sessanta. Come nasce la mia attenzione, il mio lavoro con la fotografia? Probabilmente sono stato un predestinato perché avendo già fatto alcune esperienze, sempre da autodidatta, con dei disegni innanzitutto, con un po' di scultura, con la pittura. E a un certo punto succede qualcosa che cambia tutto. Arriva a casa un piccolo ingranditore per stampare le fotografie. E quindi questo strano oggetto che mi fu regalato accende la mia curiosità. E questo coincide, capita in un periodo particolare, proprio a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Anni importantissimi per chi li ha vissuti, perché erano gli anni in cui si rimetteva in discussione un po' tutto, specie nella creatività. Qual era lo stato della fotografia agli inizi degli anni Sessanta? La fotografia era praticata dai professionisti, coloro che avevano bottega o che lavoravano con la fotografia nel campo del fotogiornalismo, nel campo della moda, eccetera. E poi c'erano gli appassionati di fotografia, che allora si chiamavano fotoamatori, che facevano le gare, i concorsi, le belle fotografie, con il controluce, con le suggestioni. Ecco, io invece sento che anche in fotografia si poteva cambiare registro. E cominciò in quegli anni a lavorare sperimentando, proprio sperimentando, sia sulle tecniche, stravolgendo le tecniche, come appunto tutta la creatività di quel periodo imponeva, stravolgendo le tecniche per vedere proprio cosa succedeva. E poi sperimentando anche in termini linguistici, cosa proporre, cosa raccontare poi, una volta messa a punto una strategia tecnica. Mi sono mossa un po' raccontando, guardando, raccontando più che altro la sofferenza, il malessere, ma non tanto come cronaca, come narrazione delle vicende che accadevano, ma proprio con l'intento di mettere insieme una sorta di schedatura della sofferenza. Quindi lavorando un po' nelle scuole, nelle fabbriche, negli ospedali, sono gli anni in cui si discuteva e ci si credeva tutti nella necessità dei cambiamenti. Per me l'orizzonte è una sorta di via di fuga, questa dimensione di infinito dello spazio. Però poi abbiamo quest'altra dimensione, che è il movimento del mare, l'onda. Anche questo è un senso proprio di infinito. Mentre noi stiamo qui a discutere, in questo posto le onde continuano così, c'è questa eternità.